Ciao bambini, bentornati sul canale Cartoni Animati per Bambini. Lo so che tra di voi che guardate i miei video colorati con la sabbia e i pigiamini, i video delle storie fantastiche che invento per voi, ci sono quelli bambini che adorano le LOL Surprise. E oggi la puntata è anche per i maschietti, perché le LOL Surprise hanno fatto la nuova serie LOL Surprise Boys. I maschietti LOL Surprise, ci credi? Anche io non ci credevo, ma poi li ho comprati e volevo aprirli con te tutti e quanti. Adesso mano a mano che andiamo avanti e che ti faccio vedere tutte le mie LOL, apriamo anche quelle che vi piacciono di più. Iniziamo dalle fantastiche Sparkle Spice. Guarda come sono belle. Wow. Allora, ha ben sette sorprese. Guarda, sette surprise. Qui abbiamo il messaggio. Dalle LOL, altri loro bellissimi. Io direi animaletti. Sembrano animaletti o i emoji. Che se metti l'acqua chissà cosa succede. Il bibero un po' bianco e rosso. Occhiali Super Pop con le stelle. E il rosa del vetro. Il costumino arancione rosa. Che bello. Le scarpine ed eccola. La LOL surprise Super Pop. Guarda che bella. Mette anche il segno di Peace. E Missy Spice. Questa è serie Sparkle Series. Serie scintillante. Ci giro e scopro il segreto. Eccole tutte le sei del Super Scintillante. Lei è brillantissima. Hai visto come brilla? Ha i capelli rosa, fucsia, il giacchetto nero, con le maniche verdi, i pantaloncini verdi. Bella, bella. Lei è tutta dark, cioè tutta scura. Lei è tutta rosa, brillante. Lei con i capelli veramente belli, blu, 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 che brillano. Oh, qui abbiamo la bimba con i capelli rosa e il ciocchetto giallo. E l'unicornetto con il corno, cerchietto per i capelli con le orecchie dell'unicorno e il corno. Bello, è vero, bellissimo. Mi piace. Questa era la serie Sparkle. Bello, i bambini lo so che mi piacciono. Poi c'è lui. Blink Series Low Surprise. Lui, dicevo, per la scatola. Dice che loro brillano tanto tanto, ne ho quattro. Scopriamo quanti sono. Sono sei. Low Surprise, guarda. Wow, lei ha i capelli viola, rosso e verdi. Lei è miccia, che carina, con le orecchie. Guarda che bella, con un ciocchetto. Lei è madame, qualche diva bella, bella, perché guardate veramente che carina. Ha dei pantaloncini, la catena sui occhiali. E qui ho le catene dei occhiali. Ho solo i rettini che sbucano. Questa ascolta la musica. Lei è vestita mezzo zebrata, mezzo bianca e nera. E lei è sirenetta. But you can't find me. Diceva, tu non credevi in me. Ora guardiamo quante sorprese. Sette sorprese. I messaggi, il biberon. Con la scritta popi, un chiale rosa. E il vestitino della sirena. Dice che se tu metti il vestitino della sirena, metti un po' d'acqua. Che cosa succede? Forse diventi una sirena. Ma questa piramida è qui? Che cos'è? No, questa non è assoluta. E allora un'altra. Ah, Ergoas. Ma sono le LOL con i capelli veri. No. Sono bellissime quelle LOL. Una. Due. Forse altre sono nelle scatole. Guardate bambini. Sono le LOL con i capelli veri. Sono veramente belle. Con i capelli veri. Più di così non so cosa dire. Hanno i capelli veri, amore. Bambini, guardate che belli. Che amori che sono. Colorati, belli. Vediamo. Hanno tutte e due i bigodini. Il fiocco per i capelli. Una azzurra, una gialla. Il sedia del parrucchiere. Quattro sorprese qui. La principessa. E la ragazza con i capelli ricci. Oh, i messaggi nascosti. E i loro vestitini. Ma io volevo vedere tutto il scatolone. Cioè, tutte le sei makeover series. Guarda. Wow. Quante. Belle. Allora, principessi. I capelli ricci. Un ragazzino. Guarda qui. Arcobaleno nei capelli. Fantastico. I capelli rossi. I capelli arancioni con fucsia. Che carina. Si vede che è la serie con i bellissimi cappelli. Ora, aspetta, ma... Ah, no. Serie a maschietti e facciamo dopo. Ma questa chi è? Underwrap. No. I messaggi segreti. Ma mi piacciono tanto i messaggi segreti. Che bello. Vediamo. Questa è tutta di grata. Ma quante sorprese ci sono dentro? 15. Mettiamola indietro nella scatola. Così. Ben 15 surprise. Guarda un po'. Il vetro per leggere i messaggi segreti. La LOL. Con sette sorprese dentro. Il vestito della LOL. Il fiocchetto. Il biberon. Il codice segreti. E le scarpine. E qui c'è il vetro che ne fa qualche nascosto. Guarda, guarda, guarda. Pizza. E si vede un po' male. Ma si vede. E scopriamo le tue 6. Sì. Mau, che belle. Wow. Guarda un po'. Mumia. Che non mi dà l'ora di uscire perché non respira neanche, secondo me. La ragazzina tutta glitterata con delle codine. Lei che è tutta con le perle. E? E queste? No, che belle. Madame Sirena, Madame Tigrotta e Madame Vampira. Ora, bambini, il più bello. Serie Boy. Tan, 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 tan. Guarda un po'. LOL, boys. You unbox me. You unbox me. Set surprise. Maschietto nel suo, diciamo, emoji. Il biberon con la scritta pop del maschietto. Gli occhiali. I vestitini da mettere. Ed eccolo, il primo pop surprise, boys. Giriamo, 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 giriamo. Scopriamo, scopriamo quanti. Tan, 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 tan. Sei. Lui che dice l'occhio. Lui che ha morto. Lui è pop. Lui invece è il cowboy. Lui è studioso. Lui è rock. E lui invece è pop. Loro sono i sei boys, 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 boys. Ora tu devi dirmi sotto nei commenti se ti è piaciuto il video devi mettere mi piace. Scriverà sotto nei commenti quale di queste LOL io dovrei aprire, che sono tantissime. mettere ovviamente il nome, se non vuoi mettere il nome scrivi numero uno, numero due, numero tre lì, quattro qui e cinque lì. Scrivi il numero e io so quale vuol capro così l'apro. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!